Musica Ciao gente del tubo, bentornati su Tomb Raider e lo so, faccio un video settimana anche meno, ma non importa caricamento sempre lento ci abitueremo mai? dunque allora mi faccio vedere qui come siamo messi non abbiamo un cavo e niente dunque dovevamo salire sulla barchetta però noi eravamo pronti are you ready? perchè questa cosa non l'avevo forzata tempo fa? oppure l'avevo forzata ma me l'hanno richiusa eh no non l'avevo mai trovata ehhh mio dio va bene, ok giusto per sfizi diamo un'occhiata anche qui non c'è niente va bene, andiamo siamo pronti buongiorno con che salto ah siamo già qui proprio aria attuale valico io lo stesso l'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere è la sua rabbia a scatenare le tempeste distruggendo il corpo le tempeste si placeranno ok e perchè Mattias vuole sempre? non lo so non c'è perchè è parente è tutto pazzesco lo so con gli amatoni e come se lo è ma non c'è rimasta altra scelta oh come cavolo si chiama forza facciamolo forza facciamolo tanto dovrò andare su io e non voi yeah no 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 esatto fate fare tutto il lavoro pericoloso a me così che io possa morire in pace andare qui e resistere il più a lungo possibile potrebbero arrivare solari ma anche altri samurai la guardia tornante della regina del sole sparate a chiunque tranne che a me mio dio è vero che fra un po' ci sono scusa fai omone metti giù le manine non ti dirò addio perchè questo non lo è ti copriamo Lara va bene il punto è questo che mi sa che fra un po' arrivano anche i samurai e io mi divertirò un mondo insomma e ma con quale fatica fai un passo avanti un ultimo perchè la pistola e con quale velocità andiamo andiamo oh mio dio oh mio dio mi è partita la visuale andiamo a morir non possiamo ucciderli qua e facciamo prima certo certo ho qualche esperienza di tribù arcaiche se ti uccidono sono contenta che sta facendo? sono il dottor james whitman vengo in pace vedi che pace ma che cazzo? ma che cazzo? ma che cazzo? ah ah cosa siete? ah non l'ho mica preso eh allora tutti buoni dove devo andare? ok di là mannaggia ma io sono venuta da lì da dove cazzo sono venuta? da lì sopra sono venuta che cosa c'è di qua? cosa mi nascondete? con questo via imperia niente un cordon che non posso neanche aprire maledetti i rattacci i rattacci i rattacci i rattacci va buono ma faccio le attaccate? sto sprecando frecce non so se ce ne rendiamo conto no so se ce ne rendiamo conto ma che cazzo? no so se ce ne rendiamo conto oh mio dio ma fammi capire mio dio è meglio non cadere dunque la guardia tonante protegge la regina dopo tutti questi anni tutti buoni ok and now ok perchè hai deciso a fianco spegni ci vediamo in ugual modo non voglio morire che versi da capriccio che cosa fiu no io non c'ho niente di qua mio dio tutti buoni tutti buoni tutti buoni corri per la vita corri per la vita corri per la vita un po' diversi ok dunque indietro non si può tornare di sicuro niente c'ho già il massimo ma che stefari possibile siano sopravvissuti fino ai giorni nostri non mi interessa li facciamo fuori in ugual modo un accampamento si è ringraziato passaggio coperto eh vabbè non ho niente comunque dunque vediamo cosa c'è qui ma si ormai che ci frega forziamo tutte le cose ecco il vento che fai avanti da solo i muschili in faccia come faccio ad andare là ok ok John ecco che arriva alla torretta ci sono dimmi a disparare non fatevi sotto bastardi occhio alla tua destra non trattenerti respingiamoli che fai avanti da solo che fai avanti da solo che fai avanti da solo eh sì dopo la madonna quanto sei per l'altro vediamo che sapete fare oh mio dio ho capito io mannaggia non ho neanche visti arrivare non c'è un po' che fai avanti da solo non c'è che fai avanti da solo non c'è che spavento ancora ma tutti che fai avanti da così siete basta tu con le frecce madonna impestata anchura oh mio dio siamo a posto posso andare un pochino avanti ma tu pensi che io non ti abbia visto non ti ha avanti da solo mannaggia Allora Oh non lo prendo eh Per nessun motivo al mondo E la manna Allora Ok Ho finito le munizioni della pistola Questa cosa mi sta sul cazzo Dove siete? Saltate fuori Ma no Questa cosa mi sta sul cazzo Questa cosa mi sta sul cazzo in dubbio 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 in dubbio